Guarda! Grande Pepe! Grande Pepe! Guarda con me! Gianchi, stavo venuto a te Pepe! Gianluca, Pepe si siete venuto a te! Pepe, non ti muovere! Gianluca, non ti muovere! Resta là! Ragazzi, siamo tutti professionisti! Ah boh! Io voglio fare dei genti diretto, non viene bene! In questo senso, non fate! Un momento riscava malissimo! Siamo tutti via! Prego! Ssssssss! Non è umido, dai ricordi! Uscite dalla spoglianosa! Un minuto! Un minuto! Raffaele è chiuso! Cosa? Eh, c'è! Sono casino da te! Sta bello! Ah, io ce l'ho sentito! Ciao, Raffaele! Perfetto! Sì! 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 Ah, Luca, fai di Dio! Sì! Pazzino! Ma vuoi che erate un ragazzo? Tu vuoi andare a cadere? Raffaele! 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 Ciao! 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 Ciao Giorginio! Ciao Giorginio! Ciao Giorginio! Buongiorno signore e signori, vi preghiamo che il sistema è molto voglano a mannere perché mai ci sono presenze. Gianluca, Raul, Gianluca, Bion! Raul, Raul, sta qua, sta qua, sta qua! Ciao! Ciao! Veloce, veloce! Ce l'ho fatta io! Guarda, Gianluca, guarda!